a proposito cercavo proprio a lei a me avrà notato che parecchio che l'ho notato e beh beh signorino io voglio sperare beh insomma che non vorrà deludere il mio sogno lei è un serio ragazzo è vero e mi piace però ci deve pensare la risposta fra tre giorni benissimo a proposito lei esce sempre con un'altra ragazza e chi una ragazza ah mia cugina ci sarebbero due pretendenti anfusi e petrolli gliele parlerò la risposta fra tre giorni grazie a tutti